Il Comitato Trasversale delle Serre scrive al Ministro Matteo Salvini. Il Comitato Trasversale delle Serre, 50 anni di sviluppo negato, scrive al Ministro Matteo Salvini chiedendo il suo impegno per unire la Trasversale delle Serre dello Ionio al Tirreno. Sentiamo in merito il Presidente Onorario Ulderico Nistico. Se scende personalmente ci fa piacere, gli offriremo anche una bella cena a Serra o da qualche altra parte. Però gli abbiamo scritto in forma ufficiale e quando si scrive in forma ufficiale si usa anche uno stile. Stiamo scrivendo a un ministro, quindi non sono le battute tipo punto, cattive e simpatiche. Abbiamo detto che siamo, proprio a essere generosi, siamo al 40% dell'opera promessa nel 68, iniziata nel 95, 96. E che quest'opera è fondamentale per la salvezza, una volta dicevamo sviluppo, adesso proprio per la salvezza di un territorio che purtroppo si sta spopolando, non ha più economia. Il turismo dura 15 giorni, il turismo delle aree interne ancora non siamo riusciti a inventarcelo. E allora ci serve la strada, non è un di più, non è un divertimento, non è uno svago, ci serve la strada. Il ministro che cosa deve fare? Deve fare quello che, a mio modesto, questa volta parlo a titolo personale, quello che deve fare un governo di destra centro, cioè decidere e fare. Poi ovviamente Tizio non è d'accordo, Caio non è d'accordo, quello vuole lo svincolo, quello vuole questo, quello è peggio per loro. No, con questo ragionamento non saremmo neanche qui stasera a fare la manifestazione della terza età, né domani, né ci sarebbe San Martino. Alla guerre come alla guerre, per dirla come i poco simpatici francesi. Cioè, quando si inizia, allora noi vogliamo vedere lavori, non progetti sulla carta, quelli li abbiamo visti, ne siamo pieni, siamo anche contenti di averli visti. Vogliamo vedere gente che lavora, che suda sotto il sole, che viene pagato ogni sabato, come giusto che sia, e che al più presto possibile io possa passare guidando una macchina e non facendomi portare da un autista, perché gli anni passano pure per me, dallo Ionio al Tirreno. Per quanto riguarda e chiuso il comitato, purtroppo il comitato in questo momento ha un presidente, Fioravante Schiavello, e il presidente onorario. Vicepresidenti non ne abbiamo. C'è Francesco, ma purtroppo è in missione in Piemonte. Qualcun'altro è scomparsa, quella famosa che ha fatto 13. Non ci interessa più, da ammenazio a memorie, però non stanno più partecipando i sindaci, non stanno partecipando i cittadini, si vede che hanno perso la fiducia, noi no. E infatti abbiamo scritto al ministro che si assuma tutte le sue responsabilità. E quando vi incontrerete non ci devono essere guardi a spalle, come vuol dirsi? No, quando ci incontreremo sarà una simpatica chiacchierata tra gente che più o meno la pensa allo stesso modo. Ci sediamo e poi vedremo se gradisce spaghetti maremonti, una bella salsiccia. Penso che sia una a cui la buona cucina piace. Siccome piace anche a noi, passeremo una simpatica serata. Però dopo vogliamo la strada. A differenza di 50 anni in cui ci sono state cene e pranzi, è pochissima strada.